Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la prova che vi richiede di trovare ed esaminare una targa o uno strano dipinto murale a Snake Island eccetera. Vi basterà recarvi a Snake Island, quindi l'isola dei serpenti, e andare dove vi mostro. Quindi andate qui, salite in alto, seguite il sentiero fino ad un altare. Ecco l'altare, giratevi, scendete giù qui, esaminate questo murale e il gioco è fatto.